Vincenza Forconi dell'azienda agricola Forconi Vincenza, qual è la tua esperienza in questo settore? È basata sull'allevamento di animali avicoli a terra e all'aperto. Non sono polli di 40 giorni, ma sono polli di 4-5 mesi. È una bella esperienza perché ho iniziato con pochissimi animali e sto andando avanti, anche se è dura, lavorare, seguire tutto, sia le culture che gli animali. Grazie al programma di sviluppo rurale cosa hai potuto fare per la tua azienda? Ho potuto ampliare l'azienda facendo questo allevamento a terra e all'aperto, che prima non c'era. era un'azienda ripartita da zero, che prima era dei miei genitori, tramandata. Io ho lavorato per 15 anni, ho abbandonato la campagna perché a 15 anni sono andata a lavorare in fabbrica e poi adesso sono ritornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.